L'Ago ha innovato il paradigma nel suo insieme, ha interpretato il design in una modalità nuova considerandolo un driver culturale. Abbiamo rimesso la persona al centro, abbiamo inteso il design come una disciplina che porta significato, abbiamo rivoluzionato tutto l'aspetto strategico del prodotto progettando questi ingredienti, abbiamo mescolato questa grande capacità poi di comunicare, di portare attraverso il digitale un grande verbo, insomma cercando di far intendere il design come una leva strumentale che possa migliorare cultura e economia di tutti gli aspetti. Quindi in tutto questo insomma abbiamo cercato di costruire un corollario di focolai innovativi che messi insieme generano poi una potenza in questa orchestra perché mi piace vederla così poi l'azienda, è una grande orchestra che con tante unicità riesce poi a generare una musica molto armoniosa che porta con sé insomma un impatto positivo nel mondo. Questo claim interior life sottolinea che la vita degli interni ci condiziona e ci può far diventare persone migliori.